Mister Caligiuri, intanto mi consenta di farle i complimenti perché ho visto una squadra ben messa in campo e io ho definito, tutti bravi, però mi consenterà di dire, Piperissa un gradino sugli altri. Sì, Piperissa dà questa capacità offensiva, salta l'uomo facilmente, è un 2000 anche lui. Per quanto riguarda i complimenti, è un cliché nostro sotto l'aspetto del gioco, la squadra si esprime al massimo, cerchiamo di fare un buon gioco nel rispetto degli avversari e nelle difficoltà che gli avversari poi ci pongono ogni domenica. Io le ripeto, a noi la classifica è quella che è, dobbiamo rimboccare le maniche e cercare di vincere qualche partita in più, però io ragazzi non posso dare nessuna colpa per queste posizioni di classifica, perché le ripeto, è un cliché nostro, giochiamo benino, però non vinciamo le partite. Lucio Vaccaro, che finalmente mercoledì tornerà in campo dopo questa squalifica, io ho detto in telecronica che è immeritata, ma non vogliamo fare polemiche. Io invece voglio chiederti, punto sicuramente prezioso, ma punto sudato, perché la Caccurese, secondo me, è davvero una squadra ben messa in campo. Sì, innanzitutto, buonasera, io, è stata una sofferenza, sia la sofferenza della partita e la sofferenza della squalifica, finalmente rientro perché sono stato male dal punto di vista psicologico, è come guidare una macchina, però stare al lato posteriore, al lato destro, non al lato sinistro. Quindi, in questo caso, io ho trovato difficoltà anche ad esprimermi. Niente, per quanto riguarda la partita di oggi, devo fare i complimenti al mister, ma non ce n'è bisogno, perché qui parliamo di uno dei migliori mister a livello delettandistico, quindi non avevo dubbi, però una cosa voglio sottolineare oggi, che ho visto oggi una delle poche squadre in promozione che iniziava l'azione da dietro. Perché la costruiva con Mercurio che andava nell'area piccola a prendere palla e poi smistava sugli esterni. E noi, devo dire che siamo andati in buon difficoltà alla fine, quando poi abbiamo preso le misure della giusta pressione. e forse nel finale non avevamo più gamba, proprio perché abbiamo dato molto su quelle situazioni di gioco che loro facevano e quindi noi dovevamo fare delle marcature preventive. È stato un punto sudato anche per il modo in cui siamo arrivati qua. Infatti è una rosa molto rabberciata, non perché deve essere un attenuante? No, assolutissimamente, a me non piace perché nel calcio ci stanno anche queste, però oggi mancavano quattro titolari inamovibili e ho finito la partita con cinque andri, hanno esordito i due ragazzi crescente e moranti e quindi è stato un punto preziosissimo.